Buonasera amici di AppleMobile.it Oggi voglio farvi vedere un'applicazione che si chiama Metal Detector Professional Ed è disponibile a 1,59€ in App Store Andiamo a lanciare l'applicazione E ci comparirà questa schermata Dove sopra, qui sopra Dopo ci compariranno dei numeri Qui c'è la sensitività Qui c'è la possibilità di accendere o spegnere il flash E cliccando al centro potremo far funzionare l'applicazione Allora, come dice il nome Questa applicazione è un Metal Detector Ad esempio, se mettiamo un altro telefono Qui E ci poggiamo con la parte superiore del nostro iPhone sopra Possiamo vedere Che aumentano i numeri Qui ci farà vedere Funzionare come un vero e proprio Metal Detector Andiamo a fare la prova con un altro telefono E come prima Appoggiando la parte superiore del nostro iPhone Ci farà vedere Quanto cambia Andiamo a fare un'ultima prova con un paio di cuffie E dato che comunque sono dentro le calamite Ecco il nostro campo magnetico Anche per oggi è tutto E ci risentiamo alla prossima video recensione Per AppleMobile.it Ciao a tutti